Good morning Milano, buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano qui in diretta su Crystal Radio, sono le 7.07 di oggi, giovedì 21 marzo, primo giorno di primavera no, abbiamo scoperto che quest'anno è iniziato un giorno prima, però noi fa niente, facciamo finta che inizia da oggi va bene? Eh no, perché questa cosa che, io sono uno che sa sempre molto preciso queste cose poi i tecnicismi, la rotazione terrestre, cose che mi intrippano di brutto però posso dire che si stava meglio quando si stava più ignoranti? Cioè, il 21 marzo iniziava la primavera tutti felici, tutti contenti, fatta pari e patta, no, invece adesso sappiamo lì, no, attenzione perché alle 4 delle notte del 20 marzo è iniziata la primavera, l'equinozio, lo sostizio, l'equatore, l'equatore celeste ieri vi ho parlato di equatore celeste, ma quando mai avrei pensato nella vita mia di dovervi raccontare dell'equatore celeste, davvero, che fatica, che fatica, come si dice in questi casi comunque cerchiamo di alleviare la nostra fatica in questo jojov di oggi 331-78-535-555 è giovedì, la settimana sta finendo, siamo felici, fuori c'è il sole cosa volete di più? Che cosa volete di più? volete dire? Beh, potete ad esempio condividere con noi la vostra giornata 331-78-535-555, ve lo ripeto ancora, il nostro numero di whatsapp sempre qui, aperto, caldo, funzionante, pronto a ricevere ogni vostra suggestione per condividere insieme questa mattina la mattinata di quello che per tutti noi, non mali, poveri, comuni, mortali è il primo giorno di primavera Loretta Goggi con Maledetta Primavera è proprio maledetta, perché sì, perché ieri mi avete fatto scoprire questa cosa dell'equinozio, che non è precisamente il 21 marzo che cambia, adesso sono andato in burnout mi è esploso il cervello e sono andato a cercare ancora meglio le cose e ho scoperto che in realtà non è solo legato al fatto che sia bisestile o non bisestile l'anno e per quello che la primavera inizia prima o inizia dopo no, perché tecnicamente l'equinozio non è mai il 21 marzo proprio precisamente è un giorno che varia anzi è un momento che varia tra il 19 e il 21 marzo ecco perché il 21 marzo poi si dice che inizia la primavera ad esempio nel 2023 era stato il 20 marzo alle 22, 24, italiana quest'anno invece è stato il 20 marzo alle 4 del mattino, ora italiana ma perché tutto questo? perché la terra ci mette 365 giorni e circa 6 ore per fare tutto il giro intorno al sole queste 6 ore in più vengono recuperate ogni 4 anni con gli anni bisestili che hanno 366 giorni quindi proprio ci si riallinea ma pensate che il fenomeno dell'equinozio primaverile coinciderà con il 21 marzo solo nel 2102 quindi il 21 marzo del 2102 qualcuno a Goodman in Milano potrà dire oggi è l'equinozio di... fino a quel giorno non ci sarà l'equinozio davvero nel 2102 mentre pensate invece che faremo in tempo molto probabilmente io me lo auguro perché non è che manca tantissimo a festeggiare l'equinozio il 19 di marzo nel 2048 ok? so che non me ne interessava niente e ripeto si stava meglio quando si stava ignoranti diciamo così però per la precisione volevo giustamente raccontarvi tutto per bene cioè ci tengo a fare le cose fatte bene non si può sempre fare le cose un po' così alla Carlona alla Carlona come diceva la mia nonna oggi è il abbiamo detto appunto il 21 marzo e da cosa è successo nel giorno oggi nel giorno di oggi scusate ci sono un nato sportivo di cui non si può non parlare che è Ayrton Senna ve lo ricordate? beh cavolo grande mitico Ayrton Senna un grandissimo campione di Formula 1 che insomma ha fatto sognare tutti noi bambini anche se magari non eri solo tifosi io non ero un grande tifoso di Senna ad esempio io preferivo quel simpaticone di Alan Prost ad esempio c'è Alan Prost oppure Nigel Mansell il mio preferito era Nigel Mansell con quei baffoni da inglese lo adoravo però non puoi dire che Senna non fosse forse il più grande di tutti quanti ricordiamo tutti la tragica fine il primo maggio del 94 a Imola in quel weekend in quel weekend veramente tragico per la Formula 1 nel 94 a Imola ci furono ben due morti durante il weekend Ratzenberger il venerdì la domenica Senna il sabato Alboreto fa un incidente pazzesco la macchina si ribalta colpisce due meccanici con una ruota che si stacca dall'automobile in uscita dai box insomma davvero un weekend che non vorremmo mai più rivedere in uno sport ma proprio nella nostra vita in generale ma un altro c'è un altro importante invece personaggio è scomparso oggi invece dodici anni fa che era Tonino Guerra ve lo ricordate Tonino Guerra? ecco Tonino Guerra uno dei più grandi attori che abbiamo avuto ricordato alla storia per questo Gianni l'ottimismo è il profumo della vita l'ottimismo vola sì quella roba lì ecco c'è Tonino Guerra ha fatto una carriera pazzesca ci sono dei posti lui ha fatto un ha messo in piedi poi ve lo racconto semmai dopo un paese intero sulle colline sopra a Rimini vicino a San Marino che è una cosa pazzesca bene ricordo uno dei più grandi attori ha fatto teatro ha fatto teatro con i più grandi ricordato per uno spot in cui dice Gianni l'ottimismo il profumo della vita oggi è giornata di stagioni hanno quattro stagioni a Good Morning Milano adesso siamo a due vediamo abbiamo messo la primavera prima adesso abbiamo messo l'inverno di fiori di Michele Bravi estate ci sono una marea di canzoni con l'estate autunno non mi viene in mente se c'è una canzone con il titolo con il nome autunno nella canzone vedremo vedremo iniziamo con qualche notizia iniziamo a fare il meglio il nostro lavoro no perché c'è un whatsapp quindi prima leggiamo il whatsapp che è arrivato al 33178535555 whatsapp che dice buongiorno e buon giovedì agli amici di Crystal Radio e al nostro buon Fabio che ci tiene compagnia tutte le mattine grazie mille sono qui mi obbligano non è vero non è vero mi piace anzi sono solo contento anzi è un onore è veramente qualcosa di bello potervi fare compagnia ogni mattina e come sempre ringrazio Crystal Radio per questa opportunità e ringrazio anche Elisa in produzione che tutte le mattine è qui con me a far andare la baracca come si dice in questi casi oggi continuo il whatsapp oggi sono in movimento sul territorio un tramviere sarà che c'è scritto oggi sono in movimento sul territorio ma tra dub e streaming non resterò mai senza Crystal Radio è vero grazie grazie mi dai il gancio appunto per ricordare che se siete in macchina avete l'autoradio quella lì nuova schiacciate il tastino mode che non è che vi fa cambiare i vestiti non è la mode del momento no è la modalità di ascolto della radio e quindi potete ascoltare la nostra bellissima radio con il dub plus che cos'è è il digitale ah è internet no ti ho detto che è il dub non è internet metti giù le mani allora ascoltami tocca quella roba lì e vedrai che ci sono tutte le radio di questo mondo quelle più importanti no tra cui appunto Crystal Radio sono radio che trasmettono sulle onde radio ma lo fanno in maniera digitale ah come il digitale ti resta da tv si bravo quello vedi che quando ti applici ce la fai bravissimo e allora schiaccia il tastino mode e alla k perché poi è semplicissimo non devi neanche scanalare anche canale siete 97 59 39 no k c'è Crystal Radio di solito vi dicono che questo se avete i numerini se lo tieni premuto va in memoria quindi tenete premuto anche il numerino così lo mettete in memoria magari nell'1 dell'autoradio e tutte le mattine felici e contenti quando girrete la vostra chiave nella vostra automobilina mi ascoltate la mattina vedete contenti se no c'è comunque l'app sul cellulare quella la sapete usare almeno un cellulare lo sapete usare o devo spiegarvi come funziona quello dai quello ce la fate bravissimi c'è l'app Crystal Radio che è quello con la K e con 2L sia per Android sia per IOS e potete ascoltarci ovunque voi siate cioè così domani volete andare a Cerignola così perché vi voglio andare a Cerignola prendete la Cerignola e ci ascoltate anche la Cerignola volete andare in Sardegna andate in Sardegna ci ascoltate in Sardegna non garantisco sul Molise quello no scherzo anche lì anche pensate pensate Crystal Radio Milano si sente anche in Molise pensate grazie a che cosa grazie all'applicazione e comunque poi si 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 c'è anche il sito internet ve lo ricordo per l'ennesima volta come dovete fare voi andate in ufficio entrate salutate o no non mi interessa vi sedete al vostro posto iniziate a lavorare poi dite ho una call mettete sulle cuffiette aprite il sito di Crystal Radio mandatela diretta iconizzate il sito e ogni tanto però non andate a tempo con la testa fate segno di sì sì come se state ascoltando qualcuno che parla dall'altra parte ecco non cantate non ballate se no lì come dire non mi reggete il gioco e quindi io poi dopo vi ho sulla coscienza se vi licenziano quindi no non voglio non voglio anche perché vorrei che ci ascoltaste tutte le mattine felici e contenti continuiamo con la musica Tons and I Dance Monkey Tons and I che ha dei problemi lo sapete con la muffa questa canzone lo dice da sempre lo sappiamo mesmo dice muffa mi muffa a un certo punto quindi ha un problema di muffa c'è Tons al The Wamerland Bricoman e così quei posti lì c'è uno spray comodissimo per togliere la muffa io te lo consiglio basta con un panno tiepido di acqua si passa sul muro si spruzza si lascia agire si tira via e la muffa va via guarda io te lo dico Tons secondo me è perfetto e puoi davvero davvero fare tanto comunque noi siamo in ritardo questa mattina perché abbiamo una scaletta pregna e piena di contenuti e quindi ancora un po' di musica poi piccola pausa e torniamo qui sempre in diretta a Good Morning Milano 33178 53555 ci confermano che si ascolta anche in Molise si ti confermo l'ascolto in Molise ci sono stato la scorsa estate questo è un Whatsapp con la streaming con l'app iOS Android quello che volete Wrong of You lezioni di volo e vabbè me ne faccio una ragione se non mi richiami cosa devo dirti Mahmood Amen dopodiché ho c'hai 5 cellulari manca una richiamata manca una chiamata un Whatsapp un SMS uno squillino come si faceva una volta e che cavolo però vabbè comunque questo era Mahmood con tuta gold grazie mille ai nostri ascoltatori che al 3317853555 ci mandano consigli su come togliere la muffa bene sono contento io vi ho proposto dei prodotti che trovate nei grandi distributori anche di Lizia ma comunque faccio i nomi tanto non siamo in Rai quindi posso dirlo le Roamerland quelli lì no? si no non sapete la storia delle escarpe di Gian Travolta ecco per quello vabbè comunque vi faccio i nomi andate lì cercate gli antimuffa giustamente al 3317853555 mi suggeriscono un semplice e con solo tre parole basta la candeggina è vero è vero c'è da dire una cosa però anche quei prodotti non è che profumano tantissimo a me l'odore di candeggina però mi dà un fastidio è come quelli che puliscono con l'aceto non ce la faccio io entrare dentro in una casa dove uno ha lavato con l'aceto che sembra di entrare appunto in una cetaia entrare dentro una bottiglia di vino sembra di essere in una casa di alcolizzati no non ce la faccio non ci riesco però so che è veramente risolutivo cioè a volte quei metodi lì in questo caso la candeggina ha un odore veramente sgradevole devo dire mai niente come la candeggina però però funziona è vero sulla muffa funziona non so però se può funzionare quindi chiedo al nostro contatto al 331 7853 555 ma funziona anche sui muri non bianchi o se sbaglio candeggio sul muro mi rimane una macchia bianca come faccio se ho un muro giallo arancione qui in studio abbiamo i muri rossi ad esempio abbiamo le colonne dipinte di rosso se mi viene la muffa sulle colonne la muffa chiudiamo andiamo via perché c'è qualche problema ma se mi viene la muffa sulle colonne rosse qui allo studio di Good Morning Milano cosa faccio uso la candeggina oppure devo usare non so vediamo non lo so vediamo ditemi se funziona anche sui muri colorati nel frattempo invece andiamo a leggere una notizia di tutt'altro genere ma in realtà non c'entra tuttamente niente però è quella che ho qui da aperta davanti quindi vi do questa soprattutto perché sta per arrivare eh sì manca meno di un mese al salone del mobile siete felici non vedevate l'ora so che non ve ne frega assolutamente niente del salone ma tutti quanti andrete al fuori salone sicuramente tutti lo farete bene da quest'anno c'è un nuovo district perché zona Sarpi ebbene sì Chinatown fa il suo esordio al salone del mobile nasce il distretto zona Sarpi per il fuori salone e oltre vorrei capire già si chiama fuori salone fuori salone e oltre è il fuori del fuori del fuori salone sapete che poi c'è sempre così era come i teatri c'era l'out l'out off e poi hanno fatto l'off dell'out l'off dell'off l'out off dell'out off e quindi anche qui incominceranno ad esserci il fuorissimo salone il salone un po' più in là lo chiameranno così magari qualcuno magari a quel punto lo chiama direttamente balcone benvenuti al balcone del mobile così almeno diciamo di capire che siamo ancora più fuori ma comunque dal 16 al 24 aprile nuovo distretto in Paolo Sarpi per la Design Week installazioni eventi laboratori anche all'Adi museo e alla fabbrica del vapore ne sentivate la mancanza? non ve lo chiedo perché tanto sapete già che poi verrà a dircelo e ribico nei suoi appuntamenti in quella settimana lì arriverà stromae tu le mem sapete che lui si chiama stromae è proprio scritto così e si deve leggere così perché? perché non è stromastrome no è stromae perché è l'anagramma di maestro lo sapevate questa cosa? ecco adesso ne sapete un'altra perché qui il vostro imperatore del morning show sì oggi mi sono mi sono elevato sono un po' così mi sono elevato imperatore del morning show vi racconta anche queste cose piccola nota familiare non sono l'unico a credere di essere un imperatore in famiglia mia mio zio sì fratello di mio papà quando era ragazzino quindi fate conto all'età di 14 ma anche prima sì tra i 13 e i 15 anni insieme a una giovanissima mia mamma andavano in giro e giocava a lui a fare l'imperatore cioè scendeva le scale di stazione centrale dicendo di essere l'imperatore quindi insomma capite c'era già un germe in famiglia un po' così e se gli chiedevi che lavoro volesse fare da grande ti diceva l'imperatore non posso perché non c'è vado a fare il papa diceva così ma invece niente telecom italia invece l'ha preso a lavorare per anni comunque era una palissima carriera fatto quindi un saluto allo zio ottavio comunque che era sempre lo stesso che poi vi ricordate che vi ho parlato di quello zio che ha lavorato nel come si chiama nel lampadario del teatro alla scala ecco è sempre lui è sempre lui un personaggio che aveva che aveva da tanto da dare e che continua a dare tanto siamo contenti dopodiché anche i miei ascoltatori mi danno tanto perché rispondono ai miei input al 3317853555 e mi confermano che sì allora la candeggina toglie la muffa ma dopo bisogna comunque tinteggiare perché la candeggina sbianca quindi lo sbiancamento murale so già cosa avete pensato tutti lo sbiancamento murale avviene e quindi facciamo dopo una tinteggiatura se il muro è bianco meglio così quindi se avete la muffa come ce l'aveva Tons and I in Dance Monkey potete usare la candeggina vi ho detto del design district appunto qui che c'è in Paolo Sarpi c'è in vista anche uno sciopero ma che è stato rimandato di che cosa no i mezzi lo fanno lo sciopero mi spiace mi spiace per voi venire ve lo beccate ma c'era uno sciopero indetto dai digi urbani dalla polizia locale per il 24 marzo giorno della Stramilano niente non ci sta perché sia la Stramilano poi c'è anche l'incontro di Cresimandi e quindi differito di nuovo lo sciopero della della del del di Stocco no perché sto leggendo i whatsapp che arrivano non posso leggerli mi hanno distratto vi assicuro che sto leggendo dei whatsapp perché non posso leggere ovviamente tema qual è lo sbiancamento quindi non vado oltre scusate chiedo scusa per i miei ascoltatori che sono dei pirla che mi mandano i messaggi così e chi l'ha mandato lo legge e lo sa comunque dicevo che lo sciopero è stato rimandato perché appunto il 24 marzo ci sarà sia la Stramilano ma anche l'incontro dei Cresimandi allo stadio credo vediamo in quale in orario in orario un incontro di 50.000 Cresimandi con la Stramilano sì giusto allo stadio di San Siro ci sarà l'incontro con l'arcivesco di Milano con i 50.000 Cresimandi e la mattina invece 60.000 persone per la Stramilano quindi i vigili urbani la polizia locale di Milano aveva indetto questo sciopero ma niente rimandato ancora sappiamo che sono un po' di mesi ormai che sono sul piede di guerra e ne abbiamo avuti anche qui ospiti vi invitiamo anzi ad andare a rivedere il pezzo in cui ci raccontano un po' le motivazioni del loro sciopero e per capire un po' anche perché continuiamo a parlare di sciopero Ivan Graziani per gli amici questa è una delle canzoni dell'ultimo album di Ivan Graziani uscito appunto proprio questo quest'anno per sono stati dei nastri ritrovati ormai per fortuna la tecnologia ci aiuta a poter salvare quello che magari è un po' inascoltabile o magari difficile da e invece abbiamo un bel un bel album nuovo di Zecca di Ivan Graziani con otto tracce nuove tra cui appunto questa per gli amici che insomma siamo contenti grazie anzi per gli amici per tutti noi anzi per gli amici di Good Morning Milano anche quelli che ci scrivono i messaggi da Pirla io chiedo una cosa chiedo alla censura che ci sta ascoltando in questo momento non so se esiste ancora si può dire Pirla nel senso io dico solo quella non dico qualche altra parolacce però dai quello si può dire siamo a Milano si può dire Sdoganato dai Nofi no quello no però Pirla si può dire dai comunque invece andiamo avanti a leggere le notizie che campeggiano sui giornali di oggi tutti i giornali aprono ancora con la storia di Pioltello non se ne può più posso dirlo che non se ne può più il ministero ha detto che ah no non va bene quegli altri dicono ah sì va bene non si sa cosa succederà sta di fatto che invece è interessante perché a un certo punto da Pioltello è partito anche un appello dalla scuola ma anche dal dal sindaco ma anche da alcuni parlamentari dicendo allentate la tensione per la serenità dei ragazzi ebbene sì perché nuovo esame sulla decisione di sospendere o meno le elezioni e Pioltello appunto arriva a questo appello dalla scuola ma passate anche i titoli appello dalla scuola del ramadan ma cosa non vuol dire niente cioè infatti la scuola è assediata assediata dai giornalisti oltretutto cinque strutture diverse sono questa scuola quindi capite che è anche impossibile fermare non so come dire è impossibile gestire gestire i flussi di entrata e di uscita con questi giornalisti che assaltano la scuola manco fosse la diligenza l'ufficio regionale scolastico dice che la delibera è irregolare e bisogna valutare l'annullamento allora io dico ma a maggio dell'anno scorso l'hanno fatto io ripeto sempre questo perché poi è questo che mi fa girare le scatole a maggio dell'anno scorso non ho deliberato questa cosa perché adesso perché qualcuno vuole fare polemica e allora basta nel senso non siete un po' più fategli fare quello che volete cioè la motivazione è semplice se tengono aperta questa scuola il giorno della fine del ramadan ci vanno in cinque ok quindi la chiudiamo quel giorno rimaniamo tutti i casi in ferie come se fosse un altro giorno di ferie come gli innesimi giorni di ferie che ci sono durante l'anno ad esempio il martedì grasso che non è un festivo ma molti lo fanno lo stesso ad esempio o il santo patrono del paese che a volte fa quello del paese a volte ci sono paesi intorno a Milano che a volte fanno Sant'Ambrogio altre volte fanno invece quello del loro santo del paese quindi cosa cambia in più ricordiamo una cosa per mettere questo giorno di ferie in più di vacanze in più i bambini e tutto quello che ruota intorno alla scuola di Pioltello ha iniziato la scuola un giorno prima io lo ripeterò all'ennesima potenza e sempre lo ripeterò che non ne potrete più ma è così quindi va bene basta questo è quello che volevo dirvi anche sull'unica notizia che sta praticamente mettendo e campeggiando su tutte c'è a rete unificate su tutti i giornali parlano solo di questa roba qua parlano parlano solo di questa roba qua beh credo che sia veramente assurdo che si continui a parlare di una situazione che è stata fatta con il buon senso punto e basta era solo una questione di buon senso vabbè comunque ne riparleremo anche domani ne sono già sicuro ne sono stra sicuro che anche domani ne parleremo ma da qui al 10 aprile se ne parleremo se ne parleremo continueremo a parlare sicuro The Colors Simple Minds Don't You tra parentesi Forget About Me ma invece non mi dimentico mai About Her che è la nostra Her teatrale lei la nostra regina del teatro Tamara Valleo buongiorno Tamara Buongiorno Fabio buongiorno a tutte le ascoltatrici gli ascoltatori di Cristal Radio e di Good Morning Milano non farlo ecco ascolta un attimo però prima di iniziare non farlo mai più di non presentarti un giovedì perché noi abbiamo sentito la mancanza tutta la settimana cioè non è che se tu arrivi il giovedì noi siamo tranquilli se tu c'è stato un giovedì noi sentiamo la mancanza tutti i giorni però non solo il giovedì poi capito è peggio ma se mi avete diciamo sostituita brillantemente cosa dici cosa dici ma a proposito di teatro ti devo dire una cosa sai che non mi ricordo neanche chi c'era giovedì scorso però va bene chiedo scusa ho la ospite di giovedì chiedo scusa agli ospiti del giovedì scorso no però ti voglio dire che questa settimana ho riflettuto su una cosa e la collega ad un incontro che ho avuto a teatro cioè ho conosciuto il fondatore di Gommalacca Teatro che è una compagnia che lavora a Potenza perché la settimana scorsa ha portato uno spettacolo qua a Milano che mi ha detto una cosa bellissima riguardo al teatro e che mi ha fatto pensare cioè noi andiamo a teatro come se fosse un appuntamento quindi ci prepariamo ci spostiamo ci impegniamo per questo incontro però questo incontro si può rivelare in molti modi quindi può essere un colpo di fulmine può essere una grande delusione può essere un ci riproviamo può essere invece una grande storia d'amore e quindi tu continuerai a seguire quella compagnia quella attore quella attrice e ho pensato che in realtà il teatro non ti deve per forza restituire quello che tu vorresti ti restituisce qualcosa e in questo qualcosa c'è anche la delusione c'è anche diciamo la l'idea che non corrisponde a quello che tu pensavi e quindi non è detto che per forza quando si va a teatro si debba tornare contenti felici soddisfatti no? ci sono tante una gamma di emozioni infinite andando a teatro quindi questa cosa mi ha mi ha fatto pensare in trasmissione da Fabio perché in realtà il teatro non devi pensare di andare a teatro e dire per forza che bello ti puoi anche annoiare una sera a teatro ed è giusto che sia così quindi pensate di andarci ma di andarci senza insomma trovando quello che il teatro ti restituisce cioè un'emozione che possa essere positiva negativa proprio come la vita diciamo alte aspettative per le emozioni basse per il gusto non avere aspettative sul gusto il gusto arriva dopo sì sì esatto cioè non bisogna aver paura di dire non vado a teatro perché poi magari mi annoio sì può darsi può succedere è capitato anche a me però comunque ti restituisce qualcosa e ti permetti di andare avanti di dire la prossima volta sarà diverso la prossima e poi potresti incontrare invece il grande amore quella compagnia o quell'attore o quell'attrice che ti dirà sì voglio seguirla voglio vedere tutti i suoi spettacoli mi piace la sua poetica ok diciamo che ti sei salvata in corner perché pensavo che Gommalacca ti avesse fatto annoiare invece no è la grande compagnia invece di cui ti sei innamorata ok no va bene salutiamo gli amici di Gommalacca perfetto ma lo capite perché voglio Tamara Malleo cioè chi è che alle 8-10 del mattino può farvi un ragionamento così pieno complesso e che porta però tanto contenuto in sé solo Tamara Malleo io no quindi io alzo le mani qualcuno avrà pensato ma questa la mattina si fa questi ragionamenti ma non può solo alzarsi e fare colazione no perché tutti quanti li facciamo tutti quanti li facciamo questi ragionamenti prima di andare a dormire poi ce li dimentichiamo tu invece li hai magazzinati quindi io li faccio la mattina quando ci sveglia ecco bene allora torniamo ai tre appuntamenti vai allora ti dico subito uno spettacolo che c'è in scena soltanto fino a domenica ma secondo me vale la pena scene da un matrimonio teatro franco parenti quindi ci troviamo in porta romana scene da un matrimonio è tratto chiaramente dal famosissimo film di Ingrid Merman ma è una rivisitazione quindi è attraversato in un modo molto in qualche modo fedele ma originale la regia è di Raffaele Tobia Fogel in scena ci sono due attori meravigliosi che sono Fausto Cabra e sarà Lazzaro che in questo momento ha un'attenzione particolare perché è stata una delle protagoniste di Doc Nelle Tue Mani che è una fiction molto famosa di Rai 1 con Luca Argentero mia moglie è a casa ammalata e si staguardano tutte le stagioni su Rai Play ho scoperto ieri questa cosa che ci fa il giantero lì tutte se le sta guardando è arrivata la stagione del Covid quindi siamo ancora agli inizi credo siamo un po' ecco siamo un po' indietro ma in scena appunto ci sono Fausto Cabra e sarà Lazzaro che interpretano un uomo e una donna ma potrebbero si parla di una relazione di coppia quindi potrebbe essere al di là del genere uomo-donna e si parla appunto di relazione che cosa c'è alla base di una relazione perché questa coppia è sposata da dieci anni sembra tutto perfetto hanno due bambine la vita sembra non essere intaccata da nessun problema da nessuna discussione improvvisamente e invece improvvisamente fanno un'intervista che porta a galla delle piccole incomprensioni piccole incompressioni che però crepano questo rapporto e portano invece in superficie tutto un non detto tutto un represso che si è alimentato nel corso degli anni ma non soltanto tra loro due ma anche in relazione a loro due nei confronti del resto del mondo quindi nei confronti della famiglia nei confronti del lavoro nei confronti di quello che sono all'interno del mondo e questo porta ad un'esasperazione tale che a tratti porta ad una incommunicabilità e soprattutto si rivelano degli analfabeti sentimentali sentimentali ah interessante nel senso che non riescono a riconoscere le proprie emozioni non riescono non riuscendo a riconoscerle non sanno come dialogare con queste emozioni e queste emozioni si scontrano violentemente tra loro e generano delle situazioni estreme a volte anche drammatiche e ci si chiede alla fine che cosa c'è alla base di una relazione che cos'è l'amore in una relazione e quindi vabbè è uno spettacolo molto intenso è bellissima la scenografia che è di Nicolas Bovei e ci sono le musiche di Matteo Ceccarini quindi un lavoro molto accurato nei confronti di tutto quello che è anche lo spazio intorno lo spazio sia diciamo così fisico che musicale che crea l'atmosfera quindi teatro Franco Parenti fino a domenica 24 scene da un matrimonio ci spostiamo invece tutt'altro genere ma in qualche modo si ricollega e cioè ci spostiamo al teatro Fopuccini dove fino al 24 aprile quindi avete veramente però no non dirlo perché poi la gente dice però non ci va invece no correte anche lì fate finta fate finta che oggi sia il 23 aprile così almeno giorni felici che è un grande classico del teatro di Samuel Beckett in scena ci sono Elena Russarman che è una delle anime del teatro Fopuccini insieme a Roberto di Bitonto che lei è Winnie e lui è Willy ci sono queste due anime nel deserto in questa immobilità quali sono i giorni felici? quali sono i giorni felici? Winnie ce lo racconta ma davvero saranno giorni felici questi due esseri solitari perché poi al centro c'è la solitudine in un mondo che si sta estinguendo cosa ci raccontano cosa ci raccontano in questa ripetitività che arriva all'estremo in questo mondo che appunto Samuel Beckett ci racconta l'attesa e l'immobilità in una maniera surreale però poi le parole le parole sono veloci le parole arrivano e ci travolgono e questa immobilità contro la velocità di parole che ci avvolgono e ci portano in un mondo che quasi non riconosciamo ma che in realtà sappiamo sentiamo che c'è qualcosa che ci porta dentro di noi quindi la regia di Francesco Frongia regista del teatro Elfo Puccini vi consiglio di andarci è sempre un grande classico del teatro quindi chi non conosce Samuel Beckett lo scopre chi lo conosce è uno sguardo diciamo così molto Elfo Puccini ricorda Tami dove vai che sei bravissima in questo teatro Elfo Puccini che si trova in Corso Buenos Aires tra la fermata Lima o Porta Venezia dipende da dove arrivate diciamo che Lima è quella più vicina perché sono veramente due minuti allora chiudiamo con un teatro che so che è molto a te caro ma ultimamente ne parliamo e quindi sono contenta sai che aspetta non dirmelo perché ne ho due o tre quindi voglio capire ok ne ho pensato ne ho pensato ne ho tre pensa ormai siamo al teatro della cooperativa siamo in zona di guarda Renato Sarti che è l'anima del teatro della cooperativa ci ricorda che la storia non va ricordata soltanto il giorno della memoria ma sempre soprattutto una storia che ci riguarda e che c'è molto vicina in questo caso fino al 24 marzo quindi a domenica c'è in scena un suo grande classico che è Matilde il tram per San Vittore in scena ci sono scusami Rossana Mola e Marta Marangoni che appunto Marta Marangoni fa parte di Duperdu quindi un'anima che è molto presente anche al teatro della cooperativa e si racconta appunto la storia di donne madri mogli sorelle figlie che si che si precipitano al carcere di San Vittore dove vengono rinchiusi i loro mariti durante la seconda guerra mondiale appunto vennero arrestati nei stabilimenti a nord di Milano centinaia di lavoratori di Sesso San Giovanni e quindi le donne poi andarono appunto al carcere di San Vittore per riconoscere i propri i propri mariti come è sempre Nato Sarti parla di una storia legata al periodo della seconda guerra mondiale un periodo che sembra sembra essere un periodo ricordato nelle scuole studiato ma in realtà viene spesso dimenticato soprattutto quello legato al nostro territorio quindi Renato Sarti mette al centro una storia che riguarda Milano la storia di uomini e donne di Milano legato al periodo appunto della seconda guerra mondiale come sempre mette in luce anche il non eroismo perché poi alla fine si racconta sempre la storia di donne e uomini che hanno fatto delle cose eclatanti in questo caso lui racconta la storia di donne e uomini che hanno fatto una vita comune una vita come quella come la nostra che però non deve essere dimenticata perché sono vite che si sono opposte al fascismo e al nazismo pagando un caro prezzo e quindi spesso la vita questo al tratto la cooperativa Zora Niguarda mi guarda perfetto perfetto Tami grazie allora come sempre ci hai portato in ottimi luoghi a riempirci la pancia e la testa di cultura e quindi mi ricordo che la prossima settimana anche se si avvicina Pasqua ci sono gli spettacoli quindi ah sì no ah sì no giusto è vero scusate effettivamente è vero la Pasqua infatti da lì la famosa cosa del viola in televisione a teatro ad esempio proprio da lì arriva infatti diciamo che il venerdì precedente alla Pasqua diciamo così non è esattamente un momento infatti per qualche giorno gli spettacoli si fermano ma in realtà noi raccontiamo appunto il teatro nelle sue varie specieature quindi troverò qualcosa comunque da fare io ho una tradizione il venerdì prima di Pasqua guardo sempre Gesù Scasso per stare è una roba sì 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 ho questa tradizione in famiglia ormai che si fa da anni cantando ormai canto e ballo anche interpreti vari personaggi musico che sono fatti anche per quello sì 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 comunque ovviamente il pezzo che viene meglio quello di Erode lo sono tutti chi ha visto lo spettacolo può capire comunque Tavara grazie ricordaci dove possiamo trovarti e rivederti anche allora se proprio volete il venerdì sono in onda su Milanao canale 191 con Teatro Mania e il lunedì in su Antenna 3 canale 11 del diciamo sai cosa si diceva una volta a questo punto poi memorizzate no memorizzate i videoregistratori si diceva così no capito registrati memorizzati i videoregistratori Fabio li conosciamo io e te oppure di sì no no forse neanche più no no quello proprio zero quello zero va bene dai Tamara grazie mille allora a giovedì prossimo ciao ciao grazie mille andiamo avanti con la musica lui è Joliet che dice che è un po' i per me tu per te tu per chi ti vuoi più o meno diciamo cose del genere Joliet i per me tu per te Joliet 8 e 24 minuti pronto anche a fare la back voice di Joliet ragazzi ve lo dico ah Elisa se ci va male parlo con Elisa la mia producer se ci va male andiamo a fare i cori per Joliet eh non so se ci va bene o ci va male in realtà però comunque allora andiamo avanti ci ha raggiunto qui con noi un'aggraditissima ospite sto parlando di Veronica M. Degan so che c'è anche una M un po' come come gli artisti che c'hanno anche 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 Homer Simpson cioè Homer J. Simpson quindi insomma chissà lasciamo il mistero su questa M Veronica Degan di CSV Milano buongiorno Veronica ciao buongiorno a tutti è sempre bello tornare sempre bello averti qui perché dobbiamo dare un po' di appuntamenti dobbiamo dare un po' di numeri dobbiamo dare un po' di appuntamenti perché questo weekend è un weekend importante per un progetto di cui appunto CSV è capofila e sta portando in giro la creatività nella città di Milano ma raccontaci un po' infatti di cosa stiamo parlando il progetto è Cree Action sì il progetto è Cree Action ma che parte di un programma internazionale Barber Inspire ormai in atto da più di un anno in diversi paesi del mondo se non sbaglio più di sei e qui coinvolge quindi tutte le organizzazioni internazionali che lavorano insieme ai ragazzi tra i 12 e i 25 anni una bella fetta di popolazione a Milano i ragazzi da 12-25 anni ce ne sono e hanno tanto da fare adesso grazie anche a Cree Action per cosa avete fatto e cosa succederà appunto questo weekend diciamo il nostro obiettivo è quello di riuscire il più possibile a tirare fuori i geni creativi che sono nescosti un po' nelle periferie di Milano e principalmente ci concentriamo al momento si spera in più posti possibili nel futuro a Grattosoglio Barona poi questa zona San Siro e Municipio 9 quindi Bruzzano Afori ok e avete fatto sviluppare diciamo la creatività questi ragazzi ci sono tante discipline adesso facci solo un elenco di discipline poi spieghiamo bene che cosa succederà un po' nel weekend dopo la pausa perché vi lasciamo un po' di sospanze ma ci sono delle discipline di cui non sappiamo neanche l'esistenza quelle più classiche sono state ad esempio per esempio la street art ok quella ma la sappiamo tutti e il rap diciamo quelle più pop poi c'è la break dance che comunque ha conosciuto però un pochino più di nicchia e poi per ultima per gli ultimi due diciamo quelli più sconosciuti sono Poetry Slam Poetry Slam già qui incominciamo a essere sul difficile e Lo Sturdi ecco e qui e qui io fermerei tutto fermate anche la base fermate tutto Lo Sturdi che non è quando sei uno Sturdit non è quella roba è un ballo che va tantissimo da parentesi sì ormai diciamo fascia d'età tra gli undici ma anche più piccolini fino ai quindici diciassette anni conosciutissimo su TikTok quindi diciamo devi essere della generazione Z per conoscerlo la sub Z cioè è anche più piccolo della Z perché veramente cioè tra parentesi bellissimo perché poi ho visto dei video che avete prodotto sui vostri canali social e è un ballo che diciamo un ballo di gambe non so non saprei come spiegarlo in realtà sì una break dance però non ti butti a terra esatto esatto più o meno è quello è quello la cosa interessante è che ad esempio molti di queste discipline sono state anche poi insegnate ai ragazzi che si sono avvicinati al vostro progetto a volte anche da ragazzi quasi coetanei noi parliamo subito dopo la prossima canzone che dicono essere copiata dai maneschi quello che volete ma in realtà è bellissima è Farley Williams insieme a Miley Cyrus con Doctor Work It Out Angelina Mango la noia total invece non ci sia noia quando si va a parlare di Cree Action o soprattutto quando si viene ai vostri eventi venerdì e domenica sono due eventi allora partiamo da venerdì dove siete cosa fate e perché bisogna venire soprattutto se siete appassionati di quelle discipline c'è ancora tempo per iscriversi sì 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 fino all'ultimo allora domani pomeriggio siamo dalle 16 allo skate park in zona Bicocca e per le discipline di Sturdi poetry slam rap e disegno e le iscrizioni sono aperte a tutti anche se qualcuno vuole presentarsi lì al momento ovviamente non non lo escludiamo no sicuramente quindi partiamo alle 16 con il disegno durerà circa due ore il tempo di appunto realizzare le opere come funzionerà come funzionerà il disegno cosa faranno il disegno mettiamo a disposizione noi tutti i materiali quindi diciamo stendiamo questa tela gigante tutto lungo lo skate park in modo tale da dare il più spazio possibile agli artisti e mettiamo a disposizione le tempere per diciamo lasciare appunto liberi di prendere ispirazione anche dallo spazio circostante ok perfetto poi le altre discipline dicevi sono poi iniziamo con rap ok e poetry slam e lo sturdy quindi poi ci saranno appunto le esibizioni che si alterneranno un po' tutto il pomeriggio e andremo avanti sicuramente fino alle 22 per concludere con la premiazione ok mi sa anche un open mic dicevi di poetry slam esatto si poi alla fine ovviamente se rimane tempo e se c'è ancora la voglia di continuare con le performance mettiamo a disposizione il nostro microfono la nostra console e chiunque volesse venire appunto ad esibirsi è liberissimo jam session alla fine jam session alla fine questo viene appunto venerdì venerdì dalle 16 allo skate park della bicoca trapenza di skate park che se molti di voi non sanno cos'è e dov'è andate a farci un giro perché è veramente interessante come luogo è sempre molto ben popolato anche invece poi si replica domenica da un'altra parte invece con un altro tipo di spettacolo diciamo o meglio momento di creatività sì invece creatività esatto domenica invece siamo a Grattosoglio nello spazio Verone 85 e quindi siamo ospiti di questo spazio meraviglioso ha detto giusto no so già che ha detto come a Barona non è in Grattosoglio no Baroni 85 con la I no con la a Barona sta di là Barona Padrona è dall'altra parte Baroni 85 è una via con un numero civico anche voi però non fate quelli difficili ed è a Grattosoglio c'è un centro molto interessante che appunto sembra che quello super popolato durante tutta la settimana con tantissime attività sì sì ha un'agenda fittissima in questa agenda siete riusciti a infilare questa domenica appunto questo creation day diciamo dove appunto fatemi qui cosa invece quel giorno lì cominciamo presto comunque la mattina dalle undici e mezza mezzogiorno diciamo apriamo le porte e si parte con dei workshop aperti a tutti di rap breakdance e street art quindi chiunque volesse partecipare ma non al contest comunque liberissimo di venire ma anche solo per sentire ascoltare gli artisti comunque vedere che disegnano e poi invece il contest vero e proprio comincia dalle 15 30 16 e quindi contemporaneamente vedremo tutte le performance di chi si è iscritto e chiediamo che alcuni di questi artisti appunto che si esibiranno arrivano poi dal percorso di creation giusto? come ha funzionato questo percorso? Sì noi siamo partiti da fine ottobre con dei workshop aperti a tutti e gratuiti grazie a diciamo gli artisti e i tutor super disponibili e comunque anche bravissimi che hanno fatto la differenza davvero per questo percorso per i ragazzi e quindi ci sono stati questi workshop durante tutti questi mesi in cui hanno sviluppato comunque portato avanti la propria passione e quindi prodotto appunto le proprie opere che presenteranno questo contest bene allora adesso ci fermo ancora con un po' di musica ma poi torniamo ancora qui Veronica che ci racconti bene anche quale sarà il futuro del progetto creation che adesso diciamo è solo a metà del percorso quindi andrà avanti e andrà avanti anzi ancora per qualche anno poi e quindi andiamo avanti con Big Mama e con la rabbia non ti basta Big Mama la rabbia non ti basta e invece se non vi basta la creatività se l'avete dentro di voi o la volete fare esplodere creation è il progetto per voi abbiamo detto appunto in questo weekend venerdì alle 16 in Bicocca l'evento appunto di creation poi domenica un altro evento sempre targato creation a baroni 85 in quella di Grattosoglio tante discipline potete ancora iscrivervi seguiteli sui social che ci sono tutte le indicazioni per iscrivervi ma poi non finisce qui cioè non è che vabbè bravi avete vinto è finito no si va avanti no si va avanti infatti i vincitori di questi contest saranno diciamo un po' i protagonisti di quello che sarà il programma radio che diciamo sarà targato appunto creation in cui vogliamo veramente raccontare non solo le storie di questi ragazzi che grazie alla propria passione al proprio talento riescono un po' a trovare un po' la loro voce ecco però anche soprattutto raccontare quanto è importante sviluppare questo lato creativo che c'è in ognuno di noi che è importante non solo per la propria diciamo vita personale e lo sviluppo crescita per diventare diciamo adulti ma soprattutto anche con le relazioni con gli altri quindi trovare il proprio posto all'interno del proprio quartiere della propria comunità e anche mettere a disposizione le proprie competenze e idee creative per rendere proprio anche magari il proprio quartiere un posto migliore per tutti e quindi creation diventerà anche una trasmissione radiofonica un podcast appunto che poi potrà raccontare far divulgare ancora meglio quello che è stato questo processo questo percorso e soprattutto questi nuovi giovani artisti che arrivano proprio da un po' da tutte le parti più disparate della città no? dicevi anche sì sì non anche da da Rozzano comunque anche fuori Milano e che seguono un po' anche gli artisti e i tutor che fanno parte del nostro progetto perché è importantissimo appunto anche il ruolo del del tutor che riesce a proprio creare anche un rapporto di fiducia con questi ragazzi e riesce a seguirli proprio dall'inizio alla fine per aiutarli ecco in questa crescita questi tutor sono gente che alcuni sono una vita che vivono in questo ambiente altri invece sono anche giovanissimi perché ad esempio in Sturdi so che c'è questo ragazzo come si chiama? Iamme che è super giovane proprio sì sì ha appena 20-21 anni e diciamo lui ha iniziato grazie a TikTok proprio in piazza in Gaolenti con anche i ragazzi che si avvicinavano lì al momento per ballare insieme e quindi pian piano si è creato la sua community non solo online ma anche insomma fisica sì sì non me ne voglio altri tutor tipo LPO stavo pensando non stavo dicendo che sei vecchio LPO hai più anni di esperienza nel campo insomma sappiamo che e anche lì tanti risultati ottimi hanno prodotto delle canzoni sì sì lì anche del rap che si vedono ogni lunedì sera al Barrios hanno creato veramente un gruppo innanzitutto affiatato proprio come amicizia prima di questo laboratorio non si conoscevano e adesso sono diventati proprio amici ma poi anche professionalmente diciamo lato creativo perché stanno sviluppando anche dei brani insieme e e quindi anche aiutandosi l'un l'altro insomma e sappiamo benissimo che a Milano tutte le grandi storie nascono così perché se abbiamo un Gali e perché abbiamo tutto un gruppo che c'era dietro a lui Charlie Charles e tutta la la combriccola che girava intorno a loro se abbiamo anche degli abbiamo avuto qui Deborah Villa qualche settimana fa che faceva che fa la comica la famosa patti di camera a caffè tutto nasce dallo scaldasole che è stato un laboratorio di comicità pazzesco a Milano di gente che non si conosceva diventati amici alcuni si sono pure sposati tra i loro vedi Pozzoli Pozzoli quindi c'è vedete voi e proprio così insomma speriamo che anche Creaction sia una focina di grandi e nuove artisti che possono rinvigorire gli artisti milanesi diamo un po' le coordinate invece per seguirvi come fare dove fare ricordiamo poi in chiusura gli appuntamenti sì noi siamo sia su Instagram che su Facebook con il nome Creaction Milano pubblichiamo giornalmente tutte le attività che svolgiamo ogni giorno e poi ricordiamo appunto i prossimi appuntamenti quindi gli eventi di venerdì e domenica e poi anche man mano anche tutte le puntate radio che saranno trasmesse in diretta poi anche con l'educativa di strada ah con l'educativa di strada quindi insomma c'è tanti progetti davvero interessanti dietro con gli amici di Shell Radio che appunto seguiranno la parte radiofonica quindi insomma è sempre bello poi lo sapete ve lo dico sempre quando passiamo in radio parliamo di altre radio io sono solo contento appunto siamo tutti una grande famiglia e questo strumento lo amiamo tutti quindi non è un problema poi posto di verità adesso poi potete ascoltare me quegli altri tutti intanto avete tutti gli strumenti per ascoltarci tutti quanti quando volete quindi non c'è più neanche se a dire no ma se a dire no sono degli altri quindi ci mancherebbe Veronica io ti ringrazio tantissimo ti auguro il massimo per questi importanti appuntamenti grazie del weekend e poi vediamo un attimino di ritrovarvi qui quando magari appunto avremo questi grandi artisti perché c'erano anche dei vincitori giusto poi in questi contest esatto come saranno scelti questi vincitori ci sono dei giudici ospiti e quindi poi i vincitori riceveranno dei premi oltre che appunto dopo l'esperienza di essere un po' i protagonisti di questo programma radio ma riceveranno anche lì al momento dei premi che saranno degli strumenti utili per sviluppare sempre la loro creatività vincono degli strumenti legati alla loro attività dicono un cantante vince il microfono il pittore vince il pennello non credo sia così però più o meno più o meno così va bene Veronica M. Degan del CSV di Milano grazie mille scoprite questa M che cosa mai sarà chissà noi non ve lo diciamo è il nuovo facciamo social facciamo una stories su Instagram su scopri la M di Veronica che cosa vuol dire va bene infatti va bene grazie mille Veronica porta tutti i saluti anche a tutta la grande squadra del CSV grazie che sappiamo essere in questi giorni molto al lavoro anche perché signori arriva la Civil Week poi ne parliamo anche di quello ne parliamo anche di quello ne parleremo più avanti grazie mille ancora Veronica grazie a voi andiamo quindi con la musica stiamo parlando di Dagen D'Amico con Onda Alta qui alle 8.49 minuti su Crystal Radio Good Morning Milano 33178 53555 a fra poco con la grande nostra chiusura come tutti i giorni qua in diretta 8.54 minuti di oggi 21 marzo siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano sempre qui in diretta su Crystal Radio e grazie a tutti quelli che ci hanno scritto questa mattina devo dire che l'argomento muffa e candeggina è stato molto molto ingaggiante come si dice in questi casi ha fatto molto engagement sì sì ho consigli di qualunque tipo quindi grazie a chi ha scritto al 3317853555 grazie anche a chi ci ha scritto che appunto nel weekend andrà a vedere gli artisti di Creaction in Bicocca alle 16 venerdì e in Gatto Soglio al Barone 85 da mezzogiorno di domenica dopo di noi lo sapete tutti in coro Ambrogio Curti ebbene sì con senti questa chissà cosa ci fa sentire oggi e chissà quale sarà questa che ci fa sentire sarà sicuramente grande musica raccontata poi perfettamente con la sua grandissima conoscenza e la sua bellissima voce se poi non sapete cosa fare nei prossimi giorni beh riascoltatevi i consigli di Tamara Valleo per il teatro vi ricordo goodmorning.milano.it il nostro sito internet anche su Spotify Apple Podcast Google Podcast un po' ovunque dove volete noi ci siamo e questa è Crystal Radio io sono Fabio Ranfi che vi saluta e vi dà appuntamento a domani dalle 7 alle 9 qui sempre su Good Morning Milano il morning show che sveglia i milanesi il morning show che vi fa vivere la città di Milano ciao a domani ciao ciao ciao